Cari fratelli e sorelle, In questi ultimi giorni sono stati compiuti passi significativi nella ricerca di una tregua nelle regioni interessate dal conflitto in Ucraina orientale, pur avendo sentito oggi delle notizie poco confortanti. Tuttavia, auspico che essi possano recare sollievo alla popolazione e contribuire agli sforzi per una pace duratura. Preghiamo affinché, nella logica dell'incontro, il dialogo iniziato possa proseguire e portare il frutto sperato. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Unisco inoltre la mia voce a quella dei Vescovi del Lesotto, che hanno rivolto un appello per la pace in quel Paese. Condanno ogni atto di violenza e prego il Signore perché nel Reino del Lesotto si ristabilisca la pace nella giustizia e nella fraternità. Questa domenica, un convoglio di circa 30 volontari dipendenti della Croce Rosa italiana parte alla volta dell'Iraq, nella zona di Duo vicino a Erbil, dove si sono concentrati decina di migliaia di esfolati iracheni. Esprimendo un sentito apprezzamento per questa opera generosa e concreta, imparto la benedizione a tutti loro e a tutte le persone che cercano concretamente di aiutare i nostri fratelli perseguitati e oppressi. Il Signore vi benedica. Il Signore vi benedica.